Il mio discorso ringrazio il Cellin perché come tante organizzazioni non governative italiane tengono alto il nome della parte migliore dell'Italia nel mondo. Qui in Zambia è il primo progetto del Cellin che visito, è la prima volta che sono a Livingston e sono veramente felice di essere qui in questa occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.